A Rossello si continua a parlare della situazione relativa alle strisce blu, i cosiddetti parcheggi a pagamento, polemiche negli ultimi giorni ci sono state a causa delle numerose strisce blu che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere sul territorio comunale, special modo sulla statale 16, sulla cosiddetta nazionale, tante polemiche sono arrivate dalle opposizioni. Tante polemiche non solo dalle opposizioni ma anche dai residenti, dai commercianti, da chi vive la nostra città. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di telefonate, messaggi di protesta perché l'amministrazione Nunes ha ancora una volta non ascoltato i cittadini, non ascoltato le opposizioni e ha contraddetto per l'ennesima volta anche quello che proponevano e che raccontavano durante la campagna elettorale. È bastato solamente un anno e mezzo per disconoscere completamente quanto raccontato durante la campagna elettorale e i cittadini rosietani ormai hanno preso coscienza. In pratica sono state colorate di blu gli stalli sul lato est della SS16 che fino all'anno scorso erano completamente bianchi. Come Fratelli d'Italia a riguardo presenteremo un'interrogazione anche per chiedere della legittimità di questa operazione. Sappiamo infatti, secondo il codice della strada, che oltre alle strisce blu devono essere presenti nelle vicinanze delle strisce bianche in percentuale, in rapporto tra strisce blu e strisce bianche. Chiederemo appunto alla maggioranza se questo criterio viene rispettato.